Il comune di Busca ebbe il triste primato della prima vittima, Pianse la prima vittima per Covid-19 circa tre mesi fa. Sindaco, se si guarda indietro a questi tre mesi così particolari, cosa vede? Che mesi sono stati? Che periodo è stato per il suo comune? È stato sicuramente un periodo difficile e impegnativo che ci ha messo a dura prova. Noi abbiamo cominciato subito in salita perché c'è stata a inizio marzo la prima vittima e dopo due giorni la seconda. Quindi siamo venuti subito in contatto con la realtà del coronavirus e con questa emergenza che ci ha comunque fatto lavorare in un certo modo in questi mesi, anche in queste ultime settimane. Devo dire che grazie all'impegno di tanti volontari, grazie alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri, a tanti soggetti che in qualche modo si sono resi disponibili, abbiamo cercato di affrontare l'emergenza nel migliore dei modi e i risultati si sono visti perché abbiamo avuto in tutto 25 positivi a Busca, quindi un numero estremamente ridotto rispetto ad altre realtà della provincia e in questo momento abbiamo due positivi e tre pazienti in isolamento domiciliare. Quindi sono dei numeri estremamente contenuti che ci permettono ormai da qualche giorno di guardare con un certo ottimismo all'estate. C'è stato un momento particolarmente complicato, di un periodo che è stato tutto complicato, ma se si guarda indietro qual è stato il periodo, il momento in cui davvero c'è stato tanto sconforto anche personalmente nell'affrontare questo ruolo da sindaco? I primi giorni sono stati sicuramente difficili, come dicevo, perché far subito i conti con due pazienti deceduti è stato difficile. Per le famiglie, per la situazione che si stava creando e con cui tutti noi sindaci e amministratori stavamo cominciando a fare i conti. Marzo è stato un mese assolutamente difficile perché si susseguivano le comunicazioni dall'ufficio di igiene pubblica di pazienti coinvolti e positivi, quindi è stato un mese anche di difficoltà da parte di persone che stavano perdendo il lavoro o non ricevevano la cassa integrazione, quindi anche con i buoni spesi alimentari che poi sono arrivati dal governo si è riuscito a rispondere a queste emergenze. C'è stata una lunga salita che piano piano si è fatta sempre più dolce e grazie agli interventi comunque della regione da una parte, del governo dall'altra e agli interventi poi anche comunali del nostro comune di Busca, secondo me sono state date delle buone risposte. Io ci tengo a ringraziare veramente tutte le persone che comunque sono state vicine al sottoscritto, all'amministrazione in questo momento, in questi momenti difficili, soprattutto i dipendenti comunali, la Polizia Municipale ma anche tutti i volontari della protezione civile, del SAI, della Croce Rossa, che ancora oggi sono comunque impegnati in prima linea, ma devo dire che nelle settimane difficili di marzo ed aprile sono stati una presenza fondamentale e importantissima che dà ancora più valore al mondo del volontariato. Ecco adesso con la speranza, da qualche settimana, con la speranza di non dover più tornare a quei momenti così drammatici, si guarda avanti, tutto lo Stato, tutto il Paese ripartito, anche Busca, con quali prospettive, con quali nuovi entusiasmo, guardando al futuro insomma si può guardare con positività o ci sono ancora davvero tante difficoltà da affrontare? Ma secondo me siamo in una situazione non più di emergenza sanitaria ma di emergenza economica perché le ferite di questi settimani di lockdown e di chiusura si vedranno a lungo termine per tutta l'estate ma probabilmente anche in autunno. Quindi dobbiamo attrezzarci ad affrontare questa emergenza è un'emergenza che potrebbe lasciare anche conseguenze ancora più gravi di quelle che ha lasciato l'emergenza sanitaria. Io mi auguro che il governo possa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, assumere delle decisioni che possono venire incontro alle attività economiche, soprattutto quel tessuto sociale di cui sono costituiti i nostri comuni e la nostra provincia che è un tessuto fatto di imprese familiari a livello commerciale e a livello artigianale che sono quelle che hanno patito e potrebbero patire di più in provincia ma in tutta Italia. Quindi c'è bisogno di misure che vadano incontro a questo. Proprio in questi giorni abbiamo incontrato Asso Imprese che è l'associazione di commercianti locali e i proprietari degli esercizi pubblici, i titolari e stiamo anche con loro insieme cercando di studiare tutta una serie di iniziative per l'estate dall'isola pedonale sabato sera, delle iniziative che speriamo di poter organizzare in estate all'aperto che possono in qualche modo venire incontro ai negozi di vicinato che sono la realtà viva del nostro centro storico. In più abbiamo per ora messo a bilancio 100.000 euro che andranno a favore dell'attività che sono state chiuse contro il lockdown e prevediamo di mettere da parte ancora altre risorse che possono aiutare quelle imprese che hanno subito il lockdown ma che cerchiamo di far ripartire insieme. Ultima cosa, nota positiva anche la gestione dell'emergenza nella casa di riposo, la notizia confortante proprio di pochi giorni fa è che il tamponio non ha dato tutti esiti negativi. Beh anche lì è stata una situazione non facile di cui si è parlato molto nel tavolo di lavoro che ha istituito il presidente della provincia Bornia. Io tra l'altro sono il presidente della conferenza dei sindaci dell'SL Cune1 per cui ho partecipato e ho toccato con mano le difficoltà di molte residenze per anziani. Molte hanno avuto dei problemi ma altre tante hanno gestito molto bene anche con un po' di fortuna naturalmente la situazione. Qui a Busca sia la residenza per anziani che la casa di riposo che la comunità gestita dalla cooperativa insieme a voi di Villa Ferrero per disabili non hanno avuto problemi di positività. Questo è un grande risultato e devo dire veramente grazie agli operatori e a chi lavora in queste strutture perché anche per loro sono stati due o tre mesi molto difficili, molto impegnativi.